È una giornata nella quale testimoniare non solo l'apprezzamento da parte del governo del lavoro straordinario che viene svolto su quest'isola dai diversi corpi, a partire dalle capitanerie di Porto e la Guardia Costiera per il salvataggio dei migranti, ma anche un momento in cui impegnarsi per migliorare l'organizzazione, per impegnarsi a dotare le diverse forze di mezzi migliori, di capacità per svolgere questo ruolo a nome di tutta l'Unione Europea. Per questo il governo italiano è anche impegnato per far sì che Lampedusa sia veramente considerata non solo la frontiera d'Italia, ma di tutta l'Unione Europea e che il tema dell'immigrazione possa essere gestito dall'Unione Europea nel suo complesso.